Signori, buonasera. Benvenuti alla cerimonia dell'ultima rosa. Io, chi altro potrebbe scegliere? Come fa a vivere in campagna con quei tanti? Li ha baciati tutti, con la lingua. È una malattia venerea ambulante. Chase. Ah, oddio. Alla data di oggi, il suo saldo risulta impassivo. Sì, e in più il mutuo è triplicato. Prima della firma l'ho informata della possibilità di un aumento della rata. Non se lo ricorda? Posti con la faccia a terra! Subito! I tre rapinatori sono giugiti con un milione e seicentomila dollari. Era tutto studiato, sembrava una danza. Sì, una bella conga fino in prigione. Non li hanno presi. Gli acciaierie Sintax hanno congelato i pagamenti delle pensioni. Non è possibile! Sto pensando di rapinare una banca. Penso che mi comprerò una Ferrari. Io sono stato ingaggiato dai Knicks. Gran settimana per tutti. A Williamsburg Bank gestirà la liquidazione del fondo. Le banche hanno distrutto questo paese e a loro non succede mai nulla. Rapiniamo quella banca. Andiamo a riprenderci i nostri soldi. Sì. Prenderemo solo quello che ci spetta, giusto? È tutto quello che voglio. E se sono di più? Li diamo in beneficenza. Andiamo a fare un po' di pratica. Torniamo subito. Non voglio restare in macchina, fa caldo qui. Ciao, Al. Mi servono delle cosce di pollo. Slippetto. È meglio delle cosce, non credi? Non avevo mai visto nessuno rubare una lombata di maiale intera. Salta nel cestino! Perché mi hai preso, periti? Non so dove sta andando a finire questo mondo. Guardate la povera Cindy. Sembra un corriere della droga colombiano. Ci serve l'aiuto di un professionista. Ah, tu dici. Siete infiltrati? Più che altro siamo infiltrati. Comunicate solo con messaggi scritti. Come si fa senza tasti? È un touch screen. Tocco tutto, ma non succede nulla. Mi ricorda quando siamo andati a Rino. Mangiamo come re. Era rama dei re. Lo siamo ancora. Signore e signori. Merbo! Merbo! Perché mi insegui? Devo usare il tesero! Non è una missione di colpa. Sono solo stanco. Don't stop me! Non è una missione di colpa. Grazie. Non è sectiono. Poi. lements. Grazie a tutti